scusa come ti chiami? Maggie Maggie? Maggie ah Maggie ma di Maggie 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 ma io lo conosco questo questo è famoso dai ve lo giuro vera che sei famoso ti prego aspetta aspetta te lo giuro è famoso lo giuro è famoso ma dove sei? sei là? bello bello un gang questo è impazzito dai si seguigelo tutti è un gran come porti una sussa di birra oh è famoso fra il famoso vabbè grazie aspetta che ve lo fanno insieme aspetta che sto salvando questi video psichedelici quanta gente c'hai? 220 oh raga andate a seguirlo su instagram subito non ce l'ho instagram vabbè facciamoci un secondo video sei da foto oh raga numero uno raga fai vedere che sei in live quasi avanti io sono in live grande ciao ciao bello grazie io sono sempre single eh patrizio patrizio official io sono sempre single poi chi c***o mi prende poi a me chi c***o mi prende nessuna non mi prende nessuna ci sei fatto dai metti c'è fatto cioè metti ha fatto una sega sì però il suo ex quando stavo insieme lì all'idromassaggio all'acqua park ecco cosa ha fatto metti ma non mi interessa dove metti sì sì all'acqua park all'ondaland andata col suo ex gli ha fatto fare e gli ha fatto una sega grazie lorenzo eri 50 mi fa piacere vederti sorridere oggi rimorchi un po' lele ehm come posso risponderti io che rimorchio non mi va mai bene uno non mi va mai bene uno lorenzo purtroppo a me non mi va mai bene uno cosa devo rimorchiare che appena mi vedono scappano e mi chiedo sono patrizio ovvio patrizio è mio amico e lui è come fonzi e scrocchia le dita così che c'è le ragazze ai suoi piedi per la sfortuna dietro di me che mi perseguita volevo dire al piccione che se vuole bicchieri lì vuole consumare devi pagare il piccione scusa puoi dire anche te il piccione che devi pagare? devi pagare ragazzo, pancomazzo, contatto ehi piccione, così eh